Bene ragazzi, adesso andiamo a partecipare al torneo di Sulfuria, così scopriremo qual è il piano di Discobol Andiamo! Beh, penso che ormai l'abbiamo già intuito tutti, praticamente, partecipando al torneo vendono un po' come un'ombra ai vincitori Oh, così otteniamo un po' come un'ombra gratis? Eh, mi piace l'idea, chissà cosa mi daranno Eh, crepi il lupo Salve, salve gente, vi voglio bene tutti, vi voglio bene Adoro il mio pubblico Avanti qui, lava Ed estero Bene, cominciamo Ombra raffica E confusion BOM Ho fatto bene a colpire due, a farvi, a decidere gli attacchi Fuori uno Adesso ci manca che me lo avveleni Ah, meno male Fischio! Che potenza è, Fion Allora San Crispino Ho vinto Sì, vabbè, mancano ancora tre sfide Eh, hai visto? Come dice, come disse Gianluca Eh, eh, abbiamo ancora un po' di strada da fare Sì, vabbè, ancora tre sfide e poi abbiamo vinto Vabbè Vediamo il mio prossimo sfidante Ah, è una lei Credi di poter vincere? Ti sbaglio di grosso, ragazzino Se Bene, bene, bene Bene, bene, bene E se vi sarebbe Umbra o un cacchio? Sono entrambi... Oh no, cosa ho fatto? Nooo, adesso qui lava mi attacca a me Porca vacca Nooo, cosa ho fatto? Ecco Aia! Che male, ha colpito me Eh, che male Eh sì, ragazzi, come avevo detto prima I Pokémon interstate O non possono usare altre mosse Oltre Umbra Raffida Altrimenti attaccano il proprio allenatore Animaale Ciao, ciao, natu Nettù, nettù, nettù Nettù, nettù Nettù, nettù 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 Ne stava, dai Stavate Togliamo da là Qui, la va Qui, la va Qui, la va È tornato in sé Arricchiamo dall'allenatore Eccolo! Se qui la va E' il tuo turno Ruota fuoco Tiè La potenza del fuoco Bene E con questo siamo a due Ne mancano due Ehi Non sei poi così male So far di meglio se vuoi Vabbè Ok Ok Semifinale Dai fatti sotto va Ettore Ma chi è che sceglie Stilo Questa 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 Allora ruota un poco su cacchina Mentre vedi se si vuole E' il track Si dai facciamo questo Dovrei farcela E' Boom Occhio Occhio Fuori uno Vulpix Attenzione Attenzione L'evoluzione di Vulpix L'evoluzione di Vulpix E' Kurama Occhio Ha 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 Il Nine Tails 9 e 4 Oddio L'evoluzione di Vulpix E' Kurama L'evoluzione di Vulpix L'evoluzione di Vulpix L'evoluzione di Vulpix Ok Tocca a te qui la va Il colpo di grazia Fossa Un tipo fuoco Meglio sempre dare Una mosse Un tipo terra Non si sa mai Si incontra un tipo fuoco Un tipo roccia Eh eh si Eh bisogna sempre Avere le precauzioni Uovo Hai tutte le carte in regola Per ottenere i pokemon Che cerchi Grazie 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 Bene E ora Finale Che è sto pompato È il Vezio Accidenti Ho un Bagon Meglio far fuori i golding Potrebbe essere un problema Per Qui lava Niente di personale Pesciolino Solo che Sei un tipo d'acqua E i tipi fuoco Non vanno molto d'accordo Fuori uno Che fortuna Un magnemite Ok Bagon Tu sei sulla mia lista nera Però Resistente Il piccoletto Ma qua è una È una botta Di fortuna Sta Finale Porca miseria Mi becco Tutti I tipi C'è Ghiaccio Mi becco Addirittura Oh mamma L'evoluzione finale Di Bago Mi piace Sto Un regalino Oh oh Ma sei pazzo Ma questo è matto Ma Tornate nella tua sfera Pogheva E questa sarebbe stata La finale Dai Vai Elvezio Vai 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 in pace Non voglio dire altro L'MT06 Ma se non ho visto nessuno iscriversi fino adesso Vabbè Vedo che non hanno perso tempo Sono Si sono già presentati Bravi 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 Mi portano dritto nella tana del leone La scuola Oh, cavolo, ma me l'ho beccato Cavolacci Era un bel piano, invece Eh, mi pareva Bene Bene Vuol dire che otterrò il mio premio Un Pokémon Ombra, ma alla vecchia maniera Grazie per la visione tolgo altruismo tanto a che serve? a niente adesso mi parà come te oh mincada che bello a mostra barahonda mamma mia forza forza catturiamolo bravo yanma sei intelligente non usare un bra raffeta bravo ciao ciao mincada ciao proviamoci dai megaball spera inca la vada ben megaball vai dai 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 si e vai abbiamo yanma di squadra e vai oh mamma cos'è sta roba cos'è sta roba? cos'è sta roba? no si bravi scappate che vi conviene iiiiihihi già si bravo lo dico vedo che capisci subito le cose eh bravo non è che te sei accorto oh un plasol vabbè ma certo ma certo molto bene nooo cosa vuoi te tua madre va oh ribello ti darà questo nome? ah già tua madre guardia E' uno! Bravo, bravo che l'hai capito Bravo ribello, ti voglio bene Invece no Ok Rimettiamo i testi miei Pokémon 1, 2, 3, 4, 5 Il quinto è Yanmas Per chi si è perso il pezzo E' un po' dura che se l'abbia perso va Ok salviamo Bene ragazzi Ci vediamo alla prossima parte di Colosseum Con Disco Ball Ok, ciao a tutti da TheDanser94